musica 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 akuna matata ragazzi questa è una pre chat roulette di quelle che facciamo noi quest'oggi sto per cercare stiamo per cercare di trovare i fancazzisti anonimi mentre abbiamo trovato due paglie di bombe incredibili you have bombs is incredible big it's incredible big it's enormous your chips your bombs is wonderful comunque stavo a dire stiamo cercando i fancazzisti anonimi speriamo di trovarli comunque buon divertimento riuscirò a trovarvi riuscirò a trovarvi riuscirò a trovarvi fancazzisti perchè io sono ciccio gamer 89 vi troverò oltre a queste due io vi troverò assicurato con la parrucca c'è sempre ubama bella ma tutti a cercare i fancazzisti stiamo regà stanno tutti a cercare i fancazzisti regà me giuro tutti wow tutti che cercano i fancazzisti mannaggia la puttana incredibile ma non ci si crede ciao ma guarda che cerchi i fancazzisti sti anonimi incredibile ah è stata è stata è stata ragazzi calcolate che c'è c'è un mio fan che mi ha trovato su chatroulay incredibile ahahah ahahah grazie bello grazie ahahahahah secondo me dovrei diventare più sexy dovrei diventare più sexy sì decisamente pure tu stai a ricerche dei fancazzisti eh se vede stiamo messi bene tutte e due eh eh stiamo messi la meraviglia sta roba stiamo messi ahahahahah adesso io sono irresistibile sono veramente irresistibile lo devi ammettere ammettilo 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 ahahahahah che cazzo di cinese sei? mamma mia guarda 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 se fossi femmina ti scoperei a sangue ahahahahah ahahahahah no non siamo fancazzisti anonimi mi dispiace no non ti mette paura NON TE MENTE PAURA ahahahahah stai bene stai bene stai bene no davvero stai messo bene complimenti ciao bravo perfetto sei un grande Gianni mettimi ti prego mettimi pure a me ti metterò sarai anche tu dentro a quel video va bene perfetto ti saluto ciao bello grazie ciao bello ciao ah pad ah Paolo fai vedere la scritta Paolo 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 eh 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 Paolo un cazzo ah va bene ciao a tutti quelli che ahahahahahah quindi ciao ciccio gamer ciao bellissimi ciao ciao ciccio gamer 89 ciao a tutti ciao bello bella bella di nuovo tu ciao ciao ti amo tu birichino eh sei un birichino tu eh sei sei sansa sansa sei un po' birichino sei sei un po' birichino eh sei un po' birichino ma una terra piena di magia ah vabbè due sense ceila il mio mio piomas oh ha a 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 bl si a b ro ma cra Ciao, Simo! Ciao, Simo! Ciao, Simo! Ciao a tutti! Come state? Tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto! Scusate, sono bella? Stupendo! Sono fortuna! Esatto! Io ho anche detto Paolo, comunque! Non l'ho sentito! Che ha detto? Ho detto Paolo! Santa madonna! Ok! Ce lo siamo segnato! Ok! Grazie! Vabbè! Allora, c'è un Facebook! Si sta a scrivere un amico di Facebook! Vabbè! Vai a fare l'abbraccio! Vai a fare l'abbraccio? Chi va a fare l'abbraccio? Chi va a fare l'abbraccio? No! Perché te sento proprio male! Non lo so! Aspetta un attimo! Ma chi c'è mordi? Stai qua un altro pochetto! Ha! No, ha crashato tutto. Porco d***a, ha crashato. Qua sto cercando tutta gente che trova... Io ce l'ho trovato io! L'ho trovato io! L'ho trovato io!